Siamo alle solite. Alla fabbricazione il laboratorio di fake news spinte dai soliti noti, senza alcuno scrupolo. Ma questa volta, attenzione, si parla di scarcerazione di mafiosi e sul punto è d'obbligo fare chiarezza. I boss mafiosi non vanno ai domiciliari per decreto, né tantomeno sulla base di una circolare. Anzi, il decreto Cura Italia esclude gli arresti domiciliari per i reati di mafia. Come ha già detto il ministro Bonafede, sostenere che alcuni esponenti mafiosi sono stati scarcerati per il decreto legge Cura Italia non solo è falso. È pericoloso e irresponsabile. È da sciacalli. I detenuti per mafia scarcerati in questi giorni sono andati ai domiciliari su decisione autonoma dei giudici, dopo un'attenta valutazione delle reali condizioni di salute di chi ha fatto richiesta. La lotta alla mafia è un impegno serio che il Movimento 5 Stelle ha sempre condotto con rigore, sin da sui primi passi. E la nostra attenzione sul tema resta altissima. Il Ministero della Giustizia ha già avviato verifiche e accertamenti per verificare e approfondire. Il Movimento 5 Stelle in antimafia ha chiesto di convocare al più presto la Commissione per esaminare gli atti sulle scarcerazioni, sempre nel pieno rispetto del principio della separazione dei poteri. Perché noi questo principio lo riconosciamo e lo rispettiamo. Non lo pieghiamo a cinici interessi politici di parte. Alla disinformazione e alle menzogne, come sempre, rispondiamo con trasparenza e impegno. Sono queste le cose che contano davvero, quelle che i cittadini si aspettano da noi.